Sesto giorno di fila senza decessi per Covid in provincia di Ragusa, anche se aumenta di poco la curva dei positivi. Oggi 622 contro i 616 di ieri, di cui 590 in isolamento domiciliare, 26 persone ricoverate e 6 nell'RSA di Ragusa. Per quanto riguarda i dati delle persone positive in isolamento domiciliare distribuite per comune, oggi 23 a Dacate, 35 a Chiaramonte, 100 a Comiso che aumenta di 7 casi in 24 ore, Giolatana non è più Covid-free ed oggi registra due positivi, aumentano di 2 ad Ispica, oggi 26, mentre scendono a Modica con 35 casi in isolamento, Monte Rosso sempre 2, a Pozzallo 16, 89 a Ragusa, 12 a Santa Croce, 16 a Scicli, scendono di 12 a Vittoria, oggi 235 casi in isolamento. Intanto la campagna vaccinale entra in una fase che da oggi coinvolge praticamente tutti, anche in provincia di Ragusa, infatti via libera da Palermo, alla prenotazione per la fascia d'età dai 16 ai 39 anni, scorte permettendo l'estensione della somministrazione del siero al nuovo target, che comprende oltre 1.300.000 persone nell'isola, è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Vengono utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e su base volontaria anche AstraZeneca e Johnson e Johnson monodose. Prosegue poi la campagna vaccinale in tutti gli hub della provincia, anche se ieri, purtroppo a causa di un disguido nel centro di Contrada Beneventano a Modica, alcuni utenti non sono stati informati che nel pomeriggio il centro sarebbe rimasto chiuso. A Santa Croce, nel centro vaccinale, si è registrata un'alta affluenza di persone, anche immigrati, che si sono sottoposti a vaccino. Sono state somministrate 403 dosi di siero Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Tornando alle vaccinazioni per gli over 16, A presentare tale nuova fase cruciale è il presidente della regione, Nello Musumeci. È un'occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all'immunizzazione di massa, ha affermato Musumeci. Solo in questo modo potremmo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Sempre da Musumeci, anche un'altra novità, Ruggero Razza, torna a ricoprire l'incarico d'assessore regionale alla sanità. L'assessore si era dimesso dall'incarico nel marzo scorso, perché indagato nell'ambito di un'inchiesta su presunti dati legati a casi Covid falsi. In questa settimana ad Interim, ha dichiarato Musumeci, ho potuto toccare da vicino la qualità degli operatori della sanità siciliana. Dal primo giorno, ha aggiunto, ho detto che le indagini giudiziarie e le responsabilità politiche devono essere separate nel pieno rispetto per il lavoro della magistratura e dei principi che arregolano la nostra vita democratica. Per questo ho insistito con Ruggero Razza affinché potesse riprendere il ruolo che gli avevo assegnato nel novembre del 2017.